Sindaco, la sua avventura in campagna elettorale è iniziata con una lista civica che lei ha composto, che si chiama Insieme Possiamo. Possiamo, che cosa significa? Possiamo bestemmiare per esempio in Consiglio Comunale? Possiamo definire uno schifo, un emendamento presentato dall'opposizione? Possiamo fare quello che ci pare? Che significa Possiamo? Possiamo significa quello che rappresentava già in campagna elettorale, nel senso che è affiancato anche alla parola Insieme, quindi il fatto di muoverci congiuntamente con una coalizione che si è presentata alle elezioni e Possiamo significa continuare ad andare avanti per superare tutte le problematiche che sono state trovate all'inizio di questo percorso. Possiamo deve essere trasformato sotto tanti aspetti anche in dobbiamo, insomma dobbiamo assolutamente cercare anche di proseguire con maggiore forza in un'azione di responsabilità, di responsabilizzazione da parte di tutti. Noi cittadini invece possiamo sperare che un consigliere comunale o addirittura un assessore siano un po' più educati, siano un po' più rispettosi così come lo è lei che è un esempio di educazione e moderazione e quindi possiamo sperare che richiami queste persone ad un maggior rispetto del luogo dove stanno e del ruolo che hanno? Tutti i cittadini devono pretendere il rispetto delle regole, il rispetto dei luoghi istituzionali, fermo restando e ricordiamolo sempre che il rispetto più alto che si può e si deve dare la città e di amministrare bene ovviamente nel rispetto delle regole e amministrare nell'interesse dei cittadini e non al servizio della politica. Questa frase mi consente di richiamare quanto ho detto ieri nel momento in cui abbiamo approvato il regolamento di igiene urbana, dopo e dopo tanti anni, lo dicevamo anche ieri in trasmissione, abbiamo delle regole perché la gestione dei servizi pubblici si deve fare sulla base di regole in modo tale che possiamo rispettare i cittadini con l'amministrazione e non gestire le partecipate e le istituzioni al servizio della politica.